Giuliani, Stefano, Merani, Fabrizio e Fulci Paolo! Ripiglia! Ripiglia! Vito, ripiglia! A me va via, c'è da mia azione! La squadra, vieni! La squadra! La squadra! Tieni, ripiglia! E c'ho... Andiamo! Andiamo a casa! Sta riprendendo! Grazie! Sì, c'è una squadra! E' la terza squadra! E' noi niente, noi niente! E' noi niente! ASD, Arceli di Avano! Marchetti, Mirko, Bellucci! Marco e Damminano sono Arceli! Ma che confondito, ce l'è bellino! Occhetti, nasi, Fulci! Vai! Grandi! 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 Oh, vai! Ok, grazie.